All'insegna delle tradizioni e della cultura, la cultura enogastronomica ma non solo. Questa sera due sinergie, due forze, quella della Cadia Miss e anche quella ovviamente dell'Associazione dei Piemontesi a Roma. Intanto connotiamo questa Cadia Miss e poi cerchiamo di capire come è interagito in questa serata. Sì, la Cadia Miss è nata parecchi anni fa su idea di Claudia Ferraresi, proprio per, come dice la parola, per unire gli amici che vengono alla Morra. Ha voluto poi allargare questi amici anche su quelli che sono andati via, diciamo, dalla Morra e dal Piemonte. Ecco che così è nata da parecchi anni l'elogio della Bagnacauda per i piemontesi. a Roma. Questo è stato veramente un innalzamento della Bagnacauda, piatto povero, tante volte denigrato. Invece è stato voluto proprio da Claudia Ferraresi, insieme all'Associazione dei Piemontesi a Roma, portare, diciamo, il valore alto di questa, diciamo, breve o comunque questo piccolo piatto povero. Ecco, un piatto povero però di grande importanza, se non altro perché, veramente lo dicevamo anche in altre circostanze, avvicina le persone, le fa sentire tutti parte di un'unica grande famiglia. Vogliamo raccontare, anche con i termini piemontesi, che cosa viene utilizzato per la Bagnacauda? Lo diciamo agli amici di Liberi.tv che sono molto attenti alle tradizioni e alla cultura, che le tradizioni si portano dietro. Sì, questo è stato sicuramente un incentivo all'aggregazione, all'aggregazione delle persone, come è sempre stata Claudia, che lo ricordiamo è scomparsa a settembre e quindi noi vogliamo portare avanti questo discorso, proprio perché sappiamo che lei ci teneva tantissimo a non far morire le tradizioni, anzi a rinvigorirle. E quindi, ecco qui che nella Bagnacauda, diciamo, noi riviviamo la nostra piemontesità con l'aglio, con le acciughe e con tutte queste verdure semplici che vengono aggregate poi al piatto per essere degustate. Questa è sicuramente un'ottima idea che gli amici di Liberi.tv sapranno replicare perché loro sono molto attenti. Quindi grazie, noi continuiamo le nostre interviste.